L'Ovidiana sarà costretta a giocare a Goriano Sicoli domani alle 15, la gara casalinga del campionato di terza categoria contro il Manaforno di Gioia dei Marsi, in quanto il comune di Sulmona non concederà più lo stadio Pallozzi. Forte disappunto viene espresso dai giovani dirigenti biancorossi che in lotta per i play-off non potranno avere la soddisfazione di giocare nella propria città. A detta del comune lo stadio non può essere utilizzato perché sono in corso procedure di intervento atte a migliorare il manto erboso. L'Ovidiana parla però di squallida ripicca da parte del comune, visto che oggi pomeriggio, in una giornata di pioggia che il buonsenso vorrebbe far riposare il manto erboso, lo stadio comunale è stato concesso al Sulmona Calcio per permettere di svolgere una seduta di allenamento. Dove sono gli interventi al manto erboso? Si domandano gli ultras che aggiungono. Si tratta di una scusa ridicola, come d'altronde tutta la gestione degli impianti sportivi. Amarezza viene inoltre espressa perché i dirigenti dell'Ovidiana si sono sentiti dire che la terza categoria non aveva mai giocato al Pallozzi. Interviene su Facebook il capitano della squadra Massimo Di Pietro che scrive, chi guarda la categoria è illimitato in tutti i sensi, invece bisogna guardare il progetto di una società. Il pubblico è la testimonianza della verità e l'Ovidiana in quanto al numero di spettatori è la vincitrice assoluta della Valle Peligna. Vi era la possibilità di usufruire del campo di bagnaturo, ma per non rischiare infortuni è stata opportuna la scelta di un campo sintetico nonostante la distanza. L'Ovidiana coglie l'occasione per ringraziare la società del Goriano per la disponibilità mostrata. La formazione sulmonese dovrà sfruttare al meglio il confronto per sperare di agganciare la zona playoff. Dopo la sconfitta nel derby di Pratola, l'Ovidiana si è ripresa alla grande vincendo sia contro il Maruvium che contro il Canzano. L'avversario di domani, il Manaforno, occupa l'ultima posizione in classifica con uno score davvero negativo. 70 gol subiti dall'inizio della stagione, di cui 40 nel girone di andata e 30 nelle 7 gare fin qui disputate del girone di ritorno, che rendono il Manaforno la squadra con la peggior difesa del campionato. Si riduce il numero degli indisponibili dell'Ovidiana rispetto alle gare precedenti. Domani, oltre a Pacella per motivi di lavoro, saranno assenti per infortunio Emanuele e Luigi La Civita, Simone Natale e Aldo di Cesare.